Il prodotto è abbastanza innovativo rispetto a due cose importanti. Il cappotto esterno è finalmente un po' più robusto della pelle esterna solita che vediamo e all'interno possiamo fare tracce sugli impianti tecnologici che sono tracce abbastanza libere. Queste due cose mi hanno abbastanza colpito. Quello che mi ha colpito di più del sistema BravoBlock è sicuramente la linea Evolution e poi mi ha colpito molto i vari pezzi speciali che ci sono della gamma. Il mezzo blocco, il blocco T, le varie tavelle, quello è molto interessante. La pecca del sistema BravoBlock è forse un po' il peso del blocco per i muratori che devono trovare a posarlo. Un nuovo sistema, faccio per dire, che ci differenziamo dal classico sistema di blocchi in laterizia con il cappotto. Poi interessante anche per l'impresa che la stessa impresa può fare tutto. Una volta posato quello ha finito il cantiere senza stare a chiamare altro personale per cappotti, rasature, sempre quello del cappotto. Quello è un'altra cosa interessante, che sempre quell'impresa fa tutto il pacchetto finito. Uno dei punti di forza sicuramente, come ho detto anche i colleghi dentro, è che la protezione del cappotto è meccanica, per cui sicuramente resiste meglio agli agenti atmosferici, a pallonanti dei ragazzi, eccetera, eccetera, e anche all'attacco degli animali. Punti delicati è che è un sistema che ancora non è completo, mancano un po' di particolari, secondo me pezzi speciali o comunque di completamento per far sì che la struttura sia un po' più completa, che aiuti di più nella realizzazione dell'opera sia chi la fa esecutivamente, sia chi la progetta. Intanto noi come Scuola Edile siamo sempre interessati ad ospitare iniziative di questo tipo, che presentano innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo. A maggior ragione quando c'è un valore aggiunto di innovazione tecnologica così alta come mi pare che il prodotto che presentate oggi si contraddistingue. Soprattutto in una zona come questa, dove oggi siamo chiamati ad un processo di ricostruzione edile estremamente importante, dovuto ovviamente ai fatti noti del terremoto, dove riusciamo a collimare sia i problemi di stabilità, quindi di antisismica, che anche i problemi di efficienza energetica. In questo caso il prodotto che la Bravo Block viene a presentare oggi in Scuola Edile ci pare che risponda ad ambedue queste esigenze. È un'innovazione estremamente interessante e credo che sia anche nella mission del nostro ente collaborare con imprese, società, aziende come la vostra, che sicuramente hanno il pallino di produrre elementi di innovazione tecnologica estremamente interessanti. Oggi la qualità del prodotto edile si gioca troppo sul prezzo e poco sulla qualità. Nel momento in cui qualcuno presenta un prodotto di qualità trova nella Scuola Edile sicuramente un interlocutore interessato e ben esposto a venirgli incontri. In questo caso la collaborazione era dovuta.